Albano Carrisi e la donna che ama prendono strade diverse, nessuno se lo sarebbe aspettato La scelta di Albano Carrisi mette tutti i suoi fan sull'attenti. Le strade prese d'Albano Carrisi e la donna che ama Sembra che per Albano ed il suo amore la carriera lavorativa insieme sia già finita Infatti Albano presto arriverà sul programma Rai Ballando con le stelle, mentre la donna inizierà la sua carriera in Mediaset Anche se sono stati esclusi dal programma di Antonella Clerici, The Voice, sembra che la coppia sia molto richiesta all'interno del piccolo schermo Chi è questo particolare amore di Albano Carrisi? Il cantante sembra che sia in trattativa per partecipare alla prossima edizione del format condotto da Millie Carlucci Tra i partecipanti sarà presente anche Morgan. Per il nostro caro Albano questo può essere considerato un ritorno in pista proprio in quel programma in cui si è esibito già in passato con la sua ex moglie Romina Power In quell'occasione numerosi sono stati fan della coppia che hanno fatto un tuffo nel passato, vivendo i momenti più belli e significativi del loro rapporto In seguito il cantante ha preso parte anche allo show Il Cantante Mascherato Nel caso in cui si riuscirà a chiudere l'accordo con il programma Ballando con le stelle, questo rappresenta la prima volta in cui è presente un concorrente di reality show all'interno del programma di Rai 1 Infatti molti ricordano che il cantante ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2005 insieme a sua figlia Per i due, l'esperienza è stata davvero significativa. Anche perché è stato proprio in quel periodo che, Loredana Lecciso, lo ha lasciato in diretta tv Jasmine Carrisi, nata dal rapporto tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, ha fatto il suo debutto nel programma, i The Voice Senior insieme a suo padre L'amore di Albano, Jasmine, proprio attraverso le sue capacità ha ottenuto una proposta lavorativa da parte di Mediaset Per il momento ancora non si sa con certezza in quale programma la si può vedere Anche se vi sono alcune indiscrezioni secondo le quali si pensa ad una sua partecipazione al grande fratello VIP Altre voci invece affermano che possa partecipare ad alcuni show musicali, proprio perché la ragazza possa riuscire ad ottenere successo nel mondo della musica Per il momento ancora non si sa perché la coppia, formata da padre e figlio, sia stata esclusa dal programma, i The Voice Senior Nonostante ciò alcuni volti noti come Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino sono stati confermati anche per questa nuova stagione A sostituzione di Albano e Jasmine potremmo vedere Orietta Berti, un personaggio che nell'ultimo periodo sta ottenendo molto successo, grazie alla canzone, Mille, interpretata da Achille, Lauro e Fedez Di sicuro sia Albano che Jasmine non hanno accettato di buon occhio la loro esclusione dal programma Al punto da affermare di essere rimasti molto delusi per la scelta che lo show di Rai 1 ha portato avanti